Non c'è soltanto il caso di Niccolò Ciatti a dividere sul piano giuridico Italia e Spagna, c'è anche la triste vicenda delle studentesse che stavano svolgendo l'Erasmus, morte nell'incidente del Pullman a Terragona, per il quale a sei anni da quella tragedia ancora un processo non è iniziato. Lo farà a settembre, l'occasione sperano i familiari delle 13 ragazze, di cui 7 italiane, per accertare la verità. Tra loro c'era anche Elena Maestrini, una giovane studentessa che era partita l'anno precedente da Gavorrano. L'incidente avvenne in Catalogna sull'autostrada A7, un colpo di sonno dell'autista fece ribaltare il mezzo. I giudici del Tribunale di Anposta, dopo varie sollecitazioni da parte dei parenti delle vittime a riaprire un caso che era stato troppo presto derubricato come semplice incidente, hanno stabilito la data della prima udienza filtro per il 15 di settembre, una prima riunione tra i legali e i parenti delle povere studentesse che non hanno mai smesso di chiedere giustizia. Ma dalle voci che filtrano sarà anche il giorno in cui il pubblico ministero spagnolo, che sta portando avanti l'inchiesta, formulerà la richiesta di condanna per l'autista del bus Santiago Rodriguez Jimenez, 62 anni. Si parla di 4 anni dopo un'eventuale condanna con rito abbreviato. Non ci sto, sarebbe ridicolo, dice la Nazione Gabriele Maestrini, padre di Elena. Abbiamo ricevuto un'e-mail da parte dell'avvocato spagnolo che gestisce la causa e ci ha soltanto comunicato che il 15 di settembre si tratterà soltanto di un incontro preliminare tra le parti in causa per stabilire e pianificare quale sarà la strategia processuale. A questo punto non è importante l'entità della pena, dice il legale delle famiglie, ma questi genitori devono sapere di chi è la colpa. Ci sono state richieste di archiviazione sconvolgenti che siamo riusciti a evitare solo rivolgendosi alla procura.